Si, in a gang, delinquere, non proprio esagerati criminali, ma insomma on the borderline, sei un teppista, certe volte sono quelli per esempio quando vanno allo stadio a guardare le partite, in Italia sono un po' violenti, ma sono organizzati, capito? Quelli sono teppisti, sono violenti, tirano le pietre, manifesto, sono ribelli, capito? Un calcio, un calcio. No, 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 quello sarebbe criminale, brutto. Un po' brutto. In genere, esatto, il giumeno è il delinquente, ultrass anche in italiano, c'è un'altra definizione idiomatica, i teppisti. Si, allora, come si dice? Spavaldo, anche questo è un sinonimo di qualche altra cosa. Bold, come si dice? Spavaldo in italiano. Mm, che ostenta sicurezza di sé, io sono sicura di sé, sono spavaldo, niente mi spaventa, capito? 21, logorroico, anche questo è un altro sinonimo, bellissimo. J, chi parla come un fiume, è una bella metafora, parole, 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 logorroico, chiacchierone. 22, fanfarone, n, chi esagera le proprie capacità ma è inconcludente, asciutto e vetta, sei un fanfarone. E' un po' di carta bianca, un po' di carta bianca, ok? Use the back, usate il di dietro e fate il proprio...